Non so se si sente, però c'è il mio cane che sta bagnando fortissimo. Ogni volta che devo registrare è sempre così. Sì, signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati e in uno parliamo, perché ci sono alcune cose che vi devo dire, alcune novità. Prima di tutto vorrei parlare del discorso delle dirette. Allora, come ben sapete, come molti di voi sanno, ho iniziato a fare le dirette su Twitch. Mi sto trovando bene, quindi penso che per ora continuerò su Twitch. Quindi qui sotto in descrizione c'è il link se volete iscrivervi al mio canale Twitch. Vi ricordo che le dirette sono sempre alla domenica, ore 21.30. Detto questo, eccezionalmente, questa settimana e la prossima cambieranno le date. Quindi la diretta di domenica non ci sarà, l'ho già recuperata giovedì. Il motivo è perché la domenica è un compleanno, quindi ho dovuto fare così. La prossima settimana non ci sarà neanche la diretta alla domenica. Adesso vedo quando farla, probabilmente la farò il lunedì, perché venerdì, sabato e domenica sarò a Stoccarda. Quindi sticcazzi, ma fa la vacanza, capito? E niente, detto questo, quindi chiudiamo qua il discorso delle dirette. Per quanto riguarda i video, ho un sacco di video in progetto, che vorrò fare insieme anche al buon regia. E quindi adesso mi stanno organizzando. Come ben sapete, i videotech sono più complessi da fare. Stanno abbaiando tutti i cani, sono il citofalo. Perché devo fare queste cose quando faccio le registrazioni? Comunque, come stavo dicendo, i videotech sono più complessi da fare rispetto ai videogameplay. I videogameplay, fai video, giochi, interagisci, dici cose a caso, come il bello dei gameplay. I videotech purtroppo non sono così, sono diversi. Sono un po' più complessi da fare e quindi ovviamente ne escono meno. Ne ho tantissimi in programma. Uno, sì, per quanto riguarda ovviamente, perché come avete visto da diretto ho cambiato microfono. Quindi parleremo un po' anche di queste cose qua, dei microfoni. Voglio portare anche un video dove parlerò delle tastiere, meccaniche, non meccaniche, eccetera, eccetera. E ovviamente, ovviamente, perché da un po' che ve l'ho promesso, solo che stavo aspettando di completarla, ma ciò accadrà non si sa quando. E quindi ve lo porterò il video della mia postazione. Sto cercando un attimo di fare qualcosa di figo e ve la porterò al più presto. E niente ragazzi, fondamentalmente volevo dirvi questo per quanto riguarda un aggiornamento, per quanto riguarda le dirette che ci saranno in questi giorni. Ragazzi, iscrivetevi al canale Twitch, anche perché io ho le dirette ogni tanto, durante la settimana, torno a casa, da lavoro, mi metto lì, gioco, semmai a Fortnite con i miei amici, streamo, quindi non c'è un vero giorno in cui le faccio. Quelle principali, sì, le faccio alla domenica, però ci sono anche altre dirette che faccio così a cavolo. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella o seguitemi anche sui social network, tutto qui sotto in descrizione trovate, così non vi perdete nulla. Ragazzi, come sono i miei amici, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram, anche quella Twitter, ormai faccio tweet, io ritwitto. E noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ci arrivo. Troppo in là, è troppo. Ci devo dire qualcosa, ci devo dire qualcosa. Ciao.